Siamo alle porte di giugno, si sta per avviare la stagione clima a Berceto, come vi state preparando? Ci prepariamo più o meno come tutti gli anni, visto che questi mesi ci interessano in modo particolare perché Berceto è chiaramente molto frequentato, adesso c'è un sentore che visto la richiesta di appartamenti che non neppure riusciamo a soddisfare, ci sia veramente molta gente anche quest'anno come c'è stato l'anno scorso, come c'è stato l'altro anno e devo dire come c'è sempre stata in questi anni, Berceto è un paese che piace, è un paese comodo, è un paese che si ci viene volentieri, è un paese che offre tantissime possibilità di svago e anche tantissime possibilità sportive, adesso abbiamo anche addirittura la pista di atletica che vedo che è utilizzata non solo dai nostri bambini che fanno dei corsi gratuiti con l'atletica e con il Cus Parma, però insomma quando ci sono gli impianti vanno usati e riapre la Casa della Gioventù come siamo riusciti a aprire l'anno scorso, quindi penso che sarà una buona estate.